Ciao! Ragazzi, avete partecipato a un emoji challenge? No, non ho mai partecipato. No, ma che cos'è un emoji challenge? Come noi non conoscete un emoji challenge? Ma tu come fai a conoscere? Ok, in pratica ricevi l'immagine di un emoji e devi produrre la stessa faccia dell'emoji. È semplice. Sembra sempre. Sì, allora si può iniziare. Cominciamo al mio tre. Va bene? Tre, due, uno. Questa è stata un po' dura, sì. Pronto, pronto, sono pronto. Ok. Ora c'è questa. Questa mi è piaciuta, ciccio. No, no. Non ti è piaciuta? Prepariamoci per il prossimo. Oh, no, è assurdo. Ora il gioco si fa due. D'accordo, va bene. Oh, ma questo era l'unico. A me non è piaciuto affatto. No. Oh, com'è carino. È stata un'esperienza profondamente emotiva. Sì, è vero. Io dormo con quell'espressione. Ti ando dal rito. Con quell'espressione? Wow. Dormi con quell'espressione. È il mio emoji preferito. Il tuo preferito. Sì. Ce ne sono ancora? Ce ne saranno molti altri. Sì. Oh. Bene, qui si conclude l'emoji challenge. Ora, se volete decidere chi di noi merita la vittoria, naturalmente è facile perché è ovvio che... Aspetta, ma questo chi lo ha detto? Potete commentare sul video. Molto bene. È vero. Noi ci vediamo presto. Baci, baci. Ciao. Ci vediamo. Ciao.